Un grande boato e un sonoro applauso ieri sera hanno accolto il neosindaco Pierenzo Muraglie all'arrivo nella sua sede elettorale. Il primo cittadino appena eletto ha voluto ringraziare i tanti elettori che gli hanno dato la preferenza. Di certo Ispica ha voluto dare un segnale forte alla sua classe politica. Scartato Paolo Ferlisi, erede politico del sindaco uscente Piero Rustico, ha votato con grande astensionismo a dimostrazione di un atteggiamento di sfiducia innegabile. Questa ora l'eredità che deve raccogliere Pierenzo Muraglie, neosindaco di Ispica, che ha voluto sottolineare come la città sia stata dentro un vero e proprio tunnel. A sostenere Muraglie, il Partito Democratico e le liste civiche Ispica punto a capo e libertà e buon governo. Dopo un lungo abbraccio con la moglie Milena visibilmente commossa, lei che ha coordinato in prima persona la raccolta dei risultati, Muraglie ha preso consapevolezza dei ben 4.359 voti raccolti nel turno del ballottaggio pari al 57,6 contro i 3.198 che corrispondono al 42,3 per cento di Paolo Monaca. Un successo che non è mai stato in dubbio fin dalle prime battute. Ancora una volta Muraglie ha vinto in tutte e 14 le sezioni, così era successo nel primo turno. Con lui in prima fila i compagni di avventura di questa lunga campagna elettorale, tra cui Pippo Barone, il più votato al primo turno e assessore designato è Peppe Roccuzzo, prossimo presidente del Consiglio. Muraglie è un candidato giovane, da sempre impegnato in politica, che dovrebbe portare una ventata di aria nuova in città, così sperano gli elettori.